Musica 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 E io come altro polvo, la filografa e come ricercatrici, dirigono dalla presa, sono stata invitata a cantare una parola intercalica, da un scosso con la consulenza e la fila sono arrivato quasi da un po' a fare questo avuto ricercato sul campo, nel territorio, in un'area breve di Taracuia. E sono dovuta proprio a cercarlo in maniera di costruire, sentivo un po' nella vita grecia di tutto, anche un secondo esperimentato, che non è tratato in giro a te e dite a questi comuni e, contando che sono un'area, un cossito prima di diventare, un po' a un segale, un po' attraverso il cibo, il vino, il mora tutto, in realtà ci si sente veramente a casa, quando si può scambiare, la propria storia con cui è un'ambigliante, solo che sentite il vergetto, come della Zappoglia di Pianchi, di Rendi, che suonerà un'abbra presentazione di questo libro. Noi siamo qui ospiti di un'associazione assolutamente virtuosa che si chiama Serbas ed è un'associazione in cui il suo titolo è Porte Aperte ed è una cosa che c'entra molto con l'accoglienza di questo parlato di professione dell'associazione. Cominiamo quindi l'accoglienza, ma come si conda questa tematica con quella che è anche una realtà, diciamo, contro un altro, c'è l'intivitalismo estremo che stiamo vivendo quindi la nostra realtà sembra un po' che sia quasi quello pastorale un po' di diria con il rispetto all'alerta concreta che si viene tutti i giorni, non si pensa solamente a tutto l'interesse personale e alla chiusura più nella virtù della versione esterno. Sì, questo è il problema, una cosa che va proprio in quanto tendenza a queste idee di parlare di appogliati in questa forma così a carico, però deve invece essere una cosa da riprendere, da rimettere in un posto di rispetto, proprio all'interno della cultura di quest'area di una parola, perché quello che invece di cui si parla molto più spesso, quindi anche c'erano comunque le parti di questa terra, nel mondo, naturalmente messa sul più di scala, a noi stessi che siamo dicendo che abbiamo, come dire, valorizzato questo altro aspetto, soprattutto è un qualche gesto molto antico, arcaico, che ci ricollega a qualcosa di cosciente e che magari nella continualità non viene valorizzato sull'ingessi dei nostri anziani che io sono andata a ricercare, non perché riguarda una realtà trascendente. Se ritroviamo questo collegamento, questo mi possa far vedere proprio una bella modernità e forse potremmo avere una posizione unica di saltare quello che non va in questo progresso e di passare, come dire, da un arcaico al futuro, senza dover per forza passare dal tegrado, da un abandono, dal cimento, da una distruzione delle cospe. Se noi prendiamo la parità e andare a quei valori, perché quella non era una scala metamoderni, per esempio, già non esisteva l'incondizia, tutto veniva riciclato, una scioclata, sfarenziata, tutte queste cose. Parlando di raccolta, una persona che studia, appunto, la cultura greca di papria, sia la lingua, sia le tradizioni, la cultura, l'acqua, 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 ma l'acqua, 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 tarzetta, nella panificazione, nella croce, con il pal людям sotto la properta, che è una truzziale', appunto, nel tomo dicimesco. Questo un gesto molto attiglio per ricorda della fertilità della terra a quanto l'attitudine del biadaba, quindi l'importanza, la centralità della figura femminile in una realtà che è molto centrata, appunto, sulla cultura femminile, che percebe anche questa, una delle cose, che vengono come essere il secondo piano, per finire anche quella dell'intuizione, appunto, dei secondari giorni della vita, sul fatto della vita stessa, perché questo è una cosa un po' dimenticata, e che secondo me invece c'è molto da valorizzare, da ignorare, ma qualcosa che è rimanente a qua, molto presente, unico da trovare, che va a dire che tutto il mondo è studiato con azioni lontane, il padre, i ciabanzi del mondo grosso, la Marzonia, le donne di Paia, del Pellinite, il Pellinite, eccetera, quando vuoi, e ci sono delle ricerche da fare molto interessanti invito, anzi, le persone che vedono da sempre vivere a, se non sono giovani, magari non hanno un posto opportunamente diretto a fare una ricerca di quello che c'è intorno, le parenti che invece sono depositari di questo sopito, sapere che qua si viene rispondito nel conto delle persone che qua dazzano con i passi, perché si fichano degli altri, non vengono altri e cantano in quella maniera di cantare, c'è un mirate fortissimo con l'anno di quella che ha trovato un po' di un po' di un po' di un po' di un po'. E' un po' di una, una comunità che è stata aperta questa fase, questa diversa parte spirituale, questa crema appunto. Cosa ci ha portato a una triste realtà oggi? L'idea di dimenticare un passato di pubertà, riconoscere il proprio passato solo come sofferenza e mancanza, e quindi qualche modo per superare questo momento di difficoltà oggettiva di un'opera artigliata da un attivista. E quindi una sorta di rimpegare, come dicevamo, di riduzione con questa parola, di muovere una sofferenza che con questa parola è tutto quello che c'era di più. Quindi puntare giù la casa perché era vecchia, non parlare a questa vita perché era dei poveri, non mangiare questa cosa perché sono le mie cappellette alla barra. Se questo invece, questo è un'opera politica che è un'opera politica, voglio dire, questo degrado culturale viene nel fatto di riconoscere qualcosa di lontano come sicuramente meglio di quello che abbiamo scelto in casa. Forse bisogna andare lontano, bisogna andare allontanarsi da questa realtà per poterla riscoprire. Io amo questo pure e proprio di questo tipo di cultura perché non vedo quelli che forse non sono quelli di chi vive qui in quotidiano me. Non vi assicuro che non stati riusciano a presa come la provincia di Catanzaro, quindi di un altro mondo, perché è un po' molto diverso. Il valore che ci sono qua è che il paesaggio sarà pessimo di questi luoghi che la presa trova per la fila dell'un nuovo, che finisce l'un nuovo e che comincia qualcosa di diverso. E quindi in questo modo, 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 un'energia molto particolare, che viene proprio dallo sconto, per esempio, di cui mai, che si chiama un po' davanti. È qualcosa di importante nell'anno. È detto da persona che è da garigliera in un'altra parte e quindi non può percepire lei. E che a volte va a puoi entrare le persone di qua, a patria e le altre sono realtà che magari non valorizzano abbastanza. Ho notato che, per esempio, facendo questo libro, quindi parlando di realtà locali, appunto di pastore, che ancora vorrei portare le loro cari. E questo che è uno di altri che hanno lasciato una vita, una opportunità, come quella di denotare attori, come l'immagine di Pastore Romeo, che ha fatto il sindaco, di vedere, che poi invece è tornato a fare l'allenatore. E quindi ho visto che facendo questo libro è parlare, diciamo, della signora Petronilla, che è un deposito di, non chiamo di inventare la Petronilla, perché è un deposito di sapere, per tutta la tradizionale, è come se non ci sentessero valorizzati da questo lavoro, che magari fa una persona di fuori, che sta diventando questa ricerca, un libro, una trasmissione radiofonica, però di tre e quattro puntate, che si può riascoltare sempre, una pagina su Facebook, con migliaia e migliaia di visualizzazioni, raccontaggi che vanno sulle liste molto bene, organizzate, molto belle. Quindi proprio in questo modo devi fare ritornare sul territorio dei valori che io sono venuta a vedere, molto mille, che ho portato in una realtà più ampia di quella generale, e adesso torno a dare dei risultati, e penso che adesso saranno contenti di vedersi valorizzate, e quindi che magari possono valorizzare, per la chiama, magari che sia un luogo, che fosse così importante. Vorrei invitare il pubblico a visitare questa pagina Facebook, che si chiama Filoxemia, l'accoglienza tra i greci di Calabria, e su questa pagina sono caricati tutti i contenuti che riguardano questo lavoro con le interviste, le fotografie, e anche le trasmissioni radiofoniche, che si possono riascoltare, come si ascoltano anche le luci dei contadonisti di questa ricerca. Sono per contundere l'estendamento, ma che rispetto veramente chi dovrà essere inoltre ai cittadonisti di questa realizzazione, di questa mobilizzazione della nostra stimola, oltre anche a mettere in vigore professionale, come noi che sboccolano il lavoro di ricerca in generale, tutti quelli che si sentono di farlo, tutti quelli che sono invitati a guardarsi intorno ai propri famigli, che bambini, che ho conosciuto altri bambini di dieci anni, che fanno il pane con le nonne, e che sono felici di stare qui, di prevedere le differenze tra questo e altri posti, non sono in termini di quello che non abbiamo, ma anche in termini di quello che abbiamo, che gli altri dobbiamo. Naturalmente è meglio conoscere tutti, perché in realtà questo buono servire, andare a dare lontano, un po' contornare, le strutture, una voce di nuova. Mi dito anche ai tuoi, mi conosceranno, mi dito te, mi hanno fatto in questo tipo di ricerca, un tema della sua vita, mi ricercato, un rete modale, delle indicazioni molto, molto interessanti. Questo è un lavoro, questo libro è uno dei miei che sono stati fatti, in tutto il caro, nel carico, c'è una collana, in cui sono partiti anche altri modi, molti altri modi, di altri autori, artisti, fotografi, ricercatori, che hanno ricercato le loro ricerche su questa parte del nostro mondo, con tutte le caratteristiche di atri, una fine, credo che sia per particolarità, una ventinità di sicuro d'Italia, in quanto riguarda tutto il diritto, fuggire la possibilità di rincercare una persona che da lontano, un numero, in irà a conoscere, restare l'arte e sanitario, la generale fa di un altro paese, e leggerà una persona che costa molto parli. Grazie. La sugestione Sarvasse, in Italia, a Porta Banta, la sugestione che comune valore della parte della prevenza, attraverso l'hospitalità, e la prevenza di viaggiatori della vostra sugestione, che vengono dall'Italia, tra altri paesi, siamo molto felici di essere in Italia, per l'occasione della nostra famiglia nazionale, Sarvas conta in Italia circa 1.200 famiglie, nel mondo conta 15.000 famiglie in oltre 100 paesi, quindi tutti i continenti. È una situazione in realtà 70 anni fa, inizialmente si chiamano dei peace leaders, i costituzioni di parche, però che attraverso una rete informale, aprirano i ponti all'accoglienza, per uspitarre persone che attraverso il viaggio, attraverso la conoscenza, entrando nelle case delle persone, si può, diciamo, andare in contatto con la via, con il livello del nostro, se il viaggio. Per noi, a Sant'Alabia, è una grande opportunità, la seconda volta in cinque anni, che torniamo qua, grazie all'esperienza, al coordinamento dei nostri soci campresi, che sono a Trentino, per arrivare a suportare molti giorni, e speriamo che adesso possa essere mostri di tempo, perché viviamo tanto fomento. Veniamo da tante regioni, veramente dal Trentino, in giù, siamo qua, ma in generale persone. Allora si spalla e abbiamo anche un disastro, portiamo la rappresentanza, e siamo stati fischi, con una screta, in un'orto, per esempio, il amore, il sole, per esempio, un'especie autore dell'arbre, l'arbre, l'arbre, conoscenza, 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 del Pino, in questo caso, e stesserebbe conoscere meglio l'area di carica, la vita colorata, e... Quindi, ha pensato il termine, il termine chiave di tutte le forme di associazioni sbocano, cioè la cultura, perché è un unico linguaggio che si può parlare in un modo universale, in un unico linguaggio che possa appare anche l'umanità da questo, in questo momento, in che termine, in che modalità voi di adoperare il periodo di fondere la vita? Invece, adoperiamo in un modo più un scenario che probabilmente ha la portata di tutti, cioè quella di aprire le porte di casa nostra, aprire le porte di casa nostra, facciamo i soci e non definiti con termini inglesi, perché siamo anche internazionali, noi siamo affidati e siamo internazionali, noi siamo affidati ma siamo affidati e i soci possono essere popendosi, c'è persone, portamente, che possono ospitare alcuni aggiaturi, nazionali, internazionali, oppure possiamo essere per il ben gusto, c'è persone che in questo momento non possono ospitare per tanti motivi, ma possiamo rispondere la pensata alla diamante di qualcuno che viene per i vari motivi nella nostra terra e dividere con loro e nella nostra cultura quotidiana proprio che passa attraverso i nostri gesti, il nostro lavoro comunque alla faccia attraverso l'inglobare nelle nostre vite il passaggio di altre persone che possono confrontarsi con cose diverse e talmente tutti noi potremmo raccontare di molta esperienza e io pensavo di offrire cose molto scontate ai miei ospiti stranieri e invece ho scoperto di trovare un'esperienza straordinaria tanto quanto quella che gli ha ricevuto lì già dall'estero. Lì in Calabria i soci sono divisi nell'esercito provincia c'erano di vario team i coordinatori a disposizione di chi vorrà se aggiungersi i nostri professori aperti e anche per accogliere l'attenzione che avevano lo spirito servo sullo spirito d'acquaglienza di integrazione e di ospitalità della sua parte avaricare i dubbi e di riazionchiere e creiamo un mondo globale di cultura globale dell'acquaglienza dell'acquaglienza e dell'acquaglienza e della conoscenza. ecco appunto me l'ho chiaramente anche un investimento che dell'accoglienza dell'incontro molto più personalizzato i lavori le elevazioni i sentimenti a diventarsi anche da questo punto di vista che per me non maggiormente le piacciono anche più di cui ha fatto tesoro. il valore di tanti mi sono trattato da chi a qualche anno prima mi ha fondato la sensazione per per me per l'epoca in cui c'erano le guerre c'erano divisioni c'erano frontiere che ci hanno pregiudizzi paricabili ma non sono partecipanti ma perché il nostro l'epoca che la l'epoca che si che si 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 che è un film, perché è un'ecitata, tanto in crisi che vivono in mondo d'Italia, spesso nella casa di spada intermini, evitivi i suoi carni, i fattinoti, e invece entro scoprendo-si, parlando con le persone, vivendo un luogo, si scopre veramente una ricchezza, incredibile, di valore, sono quelli della toleranza, sono quelli della non delizia, del non del giudizio, dell'ascolto, dell'accoglienza, e che queste noi non abbiamo fichato una vittaccia, ci riferiamo pacifisti. Una cosa importante che vorrei dire è che il servo a fare a livello internazionale, fa parte di un organismo dell'ONU, che è l'ecosoppo. Queste noi non conoscono, per esempio, la FAO, il chef, l'ecosoppo è un altro pezzo dell'ONU, e a Ginevra non esiste l'organismo dell'ecosoppo, ma il servo a cinque rappresentanti a livello internazionale. noi possiamo proporre emozioni, se andiamo a parlare qui nella Università Unica, come servo a si, andiamo a dare il diritto male, e di mettere in contatto con altre associazioni, tutto un prego, diciamo che un'egetata realtà, veramente, tanto, 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 tanto da persona in comune, ma non ci sono persone che sono disoccupate, che sono studenti, che ci sono insegnanti, ci sono cavalini, che ci sono rigidi, veramente la società, ci siamo più speciali negli altri, per questo tipo, che è la rivoluzione che sta portata, qualità veramente, alla proposta di tutti. Quasi hanno usato il termine di Elenide, e vengo da Pudra, un po' di gilettratore, che stasera sono stato invitato per una associazione a Sainas, a parte, sono musicista, sono televisioni tradizionali, che non apparece vari, e mi ha accutato un mostro di ricerca sul piano, come la legge alla Calabria. La basale importante è che stiamo cercando di vedere in questi giorni, su quali le informazioni importanti, su quali sono le materie musicale e poetiche dell'attesa a tutti i numeri quali sono venuti con le persone, in continuazione di Sainas, e se ne lo specifico stasera, siamo a poter eseggi acquati, e le presentazioni del solito internazioniere e cerchiamo di somalizzare l'ultima potenza, ma intera, e le sue esperienze, da un'altra, e l'anno delle scelte, perché ha avuto una relazione greca, una società greca e una società greca e un paese. Il risconto, il livello di partecipazione, l'interesse, l'attenzione possibile, la musica ha dotato per le sue esperienze, a l'attenzioneikutu, l'attenzione possibile, come si esporre, come si esporre, cosa si non è libera. Credo che è una persona bella, sia interessante a ascoltare un mondo che è molto molto importante, è che la comprenna, ha detto tutto il mondo, perché sono un paio, non sono un'articolazione, non sono un'articolazione, non sono un'articolazione, non sono un'articolazione, ne sono un'articolazione e un'articolazione per farte incontrarsene. Aveva il tempo e gestione della realità, parlare della construzione degli instrumenti e anche della funzione sociale che hanno, che hanno verso le interpretazioni di contendianze di Colettività, per cui è questa ossima e sottotitura, della conversa. E perchè ora la musica che si fa dalla banda sonora di tempi, alla banda sonora di barriacopistone di far musica, cosa trasmette, quale è il messaggio, c'è un messaggio in particolare e poi la chiamo, guardo prima, mentre ci trovavo con noi con i disegnati che il mondo delle persone diceva di messaggi importanti attraverso la musica che sono, è un messaggio di pace perché è una musica che ha subito nell'ingesto insieme o una musica che ha subito anche negli atti, in senso molto male, è diventata una musica vaccinale proprio per questo motivo e quando portare in giro, parlare di questa musica personale, di questa musica molto diretta, è dare la possibilità agli numeri che non abbiamo lavorato alla musica stessa per un riscatto, per essere mai integrata e quindi un messaggio ancora di pace, un messaggio di intenzione, un messaggio di stavizia. Grazie. Grazie a tutti.